Lo sport in generale è l'adrenalina, indubbiamente una cornice calda e infuocata come sarà domani sera alzerà sicuramente il livello di adrenalina. È stato un piacere vivere la settimana, i ragazzi sono attaccati con la testa, abbiamo tenuto fede nonostante lo scivolone in casa con lo Spezia che ha lasciato un po' d'amaro a tutti, ma abbiamo tenuto fede a quello che ci eravamo promessi, cioè di andare in vacanza il 23 maggio e quindi l'obiettivo è di fare una prestazione solida e robusta e ambiziosa. La partita dell'andata è passato, un passato che ci ha insegnato e dal quale abbiamo e voluto imparare. Domani ci aspettiamo più partite nella partita come sempre e il primo scenario che prospettiamo è quello di una serenitana diretta che proverà a schiacciarci là, che proverà a far gol subito, che sarà maschia nel gioco e noi terremo botta.